Sono da Omnibus, vi presento subito i nostri ospiti, allora intanto bentornato Franco Bechis, direttore di Open Online, buongiorno, Maria Teresa Melli, Corriere della Sera, Annalisa Terranova, Il secolo d'Italia, ci collegheremo fra poco con Antonello Caporale, vedo che il collegamento però non è ancora pronto, e ricominciamo un po' da dove ci siamo salutati ieri, e cioè dal caso dei dossier abusivi della ricerca di segnalazioni, altre informazioni, gli accessi riservati, illegittimi quindi perché non si possono fare alle banche dati riservate, che sono stati oggetto ieri anche dell'audizione molto attesa del capo della direzione nazionale antimafia Giovanni Melillo ieri alla commissione antimafia. Allora ha detto molte cose, ha parlato per oltre quattro ore, ha risposto a tutte le domande dei parlamentari, ma la cosa che più o meno tutti i quotidiani, anche noi, ha scelto il passaggio, ha scelto come titolo, è che ha detto Pasquale Steriano, cioè il finanziere che operava questi accessi abusivi, non poteva essere solo in sostanza, non può essere questa mole di accessi abusivi, non poteva essere la ragione, insomma in capo soltanto a una persona, ci doveva essere qualcosa di più. Vorrei ripartire da qui facendovi ascoltare le parole di Melillo e poi le commentiamo, approfondiamo, cerchiamo di capire qualcosa di più dell'evoluzione di questa vicenda, delle sue implicazioni politiche con i nostri ospiti. Sentiamo Melillo. In generale, io credo che le condotte attribuite al sottotente Estreano, impregiudicate le valutazioni possibili soltanto dopo il contraddittorio processuale, per estensione e sistematicità, mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. È una mia personale valutazione, ma ho una discreta esperienza anche come vittima di autentici dossieraggi abusivi, come quelli ritrovati negli archivi paralleli della sede Sismi affidata al dottor Pio Pompa nel 2006. Ma a parte la mia esperienza, credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente infedele. Ecco, intanto vedo Antonello Caporale, l'avevamo annunciato, eccolo collegato. C'è Antonello, buongiorno. Fatto quotidiano. Buongiorno a voi. Allora, Franco Bechis, comincio con te. Queste parole però non sono state, come dire, poi non è che ha detto di avere delle evidenze di questo. Rimanda alla sua esperienza e credo che rimandi anche all'audizione di Cantone, di Raffaele Cantone, che oggi sarà sia all'antimafia sia al Copa. Cantone è il titolare dell'azione penale e quindi è quello titolato a parlare di quello che c'è nell'inchiesta. Melillo, quando è arrivato alla Procura Nazionale antimafia, ha proprio cambiato tutte le regole, individuando fin da subito, probabilmente senza conoscere quel che era avvenuto, che però c'era un punto debole nell'accesso alle SOS. Quindi ha reso collegiale l'autorizzazione a quell'accesso. Scusami, le SOS sono le segnalazioni operazioni sospette, un acronimo e si riferisce soprattutto alla fonte Banca Italia, ma non soltanto. Non soltanto. Lì c'è una serie di banche dati che loro possono consultare, alcune banche dati sono quelle che esistono. Io ho fatto un insegnante anche al corso di preparazione dei giornalisti che danno l'esame, sono accessibili ai giornalisti, quella del registro imprese, quella del catasto, dove puoi con un codice fiscale trovare le proprietà immobiliari di qualcuno. Questi non sono accessi illegittimi, sono addirittura in banche dati giornalisti.it, sito dell'ordine dei giornalisti, c'è persino quello delle targhe. Dalla targa puoi andare a scoprire AC Targa e più altre banche dati. Le banche dati che invece sono sensibili e riservate sono quelle d'accesso ai conti bancari, quelle d'accesso alla posizione giudiziaria, cioè sapere se c'è qualche indagine su di lui e tutte le operazioni antiriciclaggio che vengono segnalate, magari perché l'importo è anomalo, perché il destinatario è anomalo e quelle sono gestite dalla Banca d'Italia. Ovviamente i magistrati possono accedervi per fare le loro inchieste. Io non credo che Melillo sapesse di più, però non gli piaceva come era gestito l'accesso a quel servizio che aveva tante banche dati riservate e quindi ne ha cambiato le regole e ha intuito che qualcuno faceva accessi non normali. E questo lo ha detto nell'audizione. Poi tutto il resto lo deve stabilire chi sta facendo l'inchiesta, che non fosse solo, lo sappiamo, nell'invito a comparire, ci sono indagate altre persone, in gran parte giornalisti, qualche mistero c'è su alcuni nomi di giornalisti. Uno è una collega scrittrice che fa anche la giornalista quindi bene, altri nomi invece sono tutti ignoti, all'albo dei giornalisti, e facevano la stessa cosa, chiedevano l'accesso per controllare i nomi di alcune persone. Uno di quelli che l'unico omonimo trovato era un investigatore privato che normalmente fa queste cose, ma c'era un po' l'idea che lui, se conosceva qualcuno, Striano gli faceva il controllo su queste cose. Ci sono anche modalità diverse, perché secondo me questo anche dal punto di vista dell'etica giornalistica è rilevante, nel senso che in 25 episodi è scritto il giornalista richiedente, quindi la richiesta parte dal giornalista. Mi fai questa ricerca su questo, questo, quell'altro, quindi anche la scelta delle persone parte dal giornalista. In altri casi invece è scritto proprio nel capo di imputazione il giornalista interessato, quindi evidentemente distingue, in quel caso magari è Striano che fa la sua ricerca, scopre qualcosa e dice al giornalista la vuoi, ti interessa. Però lasciamo ancora distinte le cose, anche ieri abbiamo cercato di separare in lato informazione i giornalisti dalla parte spionaggio, anche se è difficile. Sono la responsabilità di quel che dico. Cambia però, cambia radicalmente. Io faccio il presente che quel tipo di richiesta fatta è un po' come se io andassi da un ladro professionista e gli dici, scusami stanotte ti introduci in casa di X o Y, prendi tutto quello che c'è nei cassetti, me lo porti e io lo guardo. Anche dal punto di vista professionale, dalla professione giornalistica è un po' diverso che ricevere invece... No, no, ma lo voglio separare non per non parlarne, soltanto per, come dire, intanto stare a questo tema, perché mi pare che all'inizio, vado a Maria Teresa Meli, anche nel racconto perlomeno di una parte della stampa, la stampa di area centrodestra si è subito appropriata della parola Dossieraggi e di questo allarme. La stampa non di area centrodestra è anche il Partito Democratico, insomma, la politica è stata più cauta nel considerare un fenomeno più esteso, era più sulla tesi mele marce. Mi sembra che ieri sia un po' cambiato con l'audizione di Melillo, forse questo, poi non so in modo... Beh, senz'altro sì, è anche cambiato, diciamo, l'atteggiamento della sinistra, perché la sinistra all'inizio non ha detto nulla, poi da due giorni invece l'ishline ha deciso di interrompere questo imbarazzato silenzio della sinistra e di parlare. Dopodiché è ovvio che quello che ha detto Melillo, secondo me, rinfocolerà la polemica perché poi lo stesso Melillo dice che la maggior parte delle persone, diciamo, sotto osservazione erano di centrodestra, diciamo, dell'attuale maggioranza, lo dice lo stesso procuratore, stando ai giornali, stando a quanto riferiscono oggi i giornali, quindi chiaramente ci sarà di nuovo la causa del centrodestra, dirà, eravamo noi nel mirino, c'è il grande complotto contro di noi. Io credo che sia più banale ed è indicativo che Melillo, certo si riferisce a sé, racconta la cosa di Piopompa perché Piopompa è un'altra storia di strani rapporti fra giornalisti. Quindi quella allusione abbiamo sentito nelle parole, quella storia che è una storia del 2006 mi sembra, se non ricordo male, insomma comunque fu ugualmente, fu ritrovato questo archivio, però lì era una questione legata ai servizi, no? Sì, devo dire anche che era un archivio non così approfondito, in gran parte era fatto di ritagli di giornali, usciti su questo o quel personaggio. Quindi probabilmente anche su una schedatura, ma non con quell'accesso così dettagliato ai conti correnti bancari o cose del genere, anche perché magari allora era meno disponibile. Meno facile. Scusa, Maria Tardino. Doviché la parola dossieraggio mi sembra un'esagerazione, cioè la maggior parte dei giornali non la usa perché effettivamente prova di dossieraggio non c'è, c'è la prova del fatto che ahimè chiunque può essere controllato e questo è l'aspetto inquietante, ma l'idea di un dossieraggio vero e proprio non c'è e dovdiché tu giustamente vuoi scendere la questione, solo per un ordine del discorso, però è vero che è molto complicato, come è spesso complicato in Italia, perché c'è, diciamo, un intrinto. Però onestamente nei capi di imputazione ci sono delle date degli accessi, se tu guardi le date degli accessi, come erano accessi richiesti dai giornalisti, segue l'onda dei fatti di cronaca, succede questo, voglio controllare chi è quello o che cosa fa. Diventa ministro della difesa Croseto, anche se su quello è un altro punto importante, vado a Antonello Caporale, poi arrivo da Annalisa Terranova naturalmente, però su quello mi pare che Melillo, proprio sulla parte, gli articoli da cui tutto è cominciato, del domani, ne abbiamo parlato anche con i cronisti del domani, sia ieri che l'altro ieri, in realtà dice che non provenivano dalla banca dati della direzione nazionale antimafia, quelle informazioni su Croseto. Antonello Caporale. Io credo che sia un costume antico purtroppo, e temo non solo della nostra democrazia, e tutti i paesi in cui la forza dell'inquisizione è più larga, in ragione della densità criminogena della società, perché immagino che in Finlandia Bekis ne saprà più di meno, lo so, in Bekis, non ci sia la direzione nazionale antimafia, e dunque non ci sia una doppia, una triplicazione delle attività investigative in ragione della rete criminale, perché capiamo che 50 anni fa non c'era la DNA, non c'era Melillo e non c'erano nemmeno i suoi predecessori, e poi abbiamo dovuto realizzare queste altre strutture investigative in forza di un pericolo coccente nella società italiana, della criminalità organizzata. Detto questo, e detto che è una condizione di inquinamento grave, oggettivamente non possiamo nasconderlo, è incredibile che oggi coloro che avete fatto bene a ricordare, anzi l'ha ricordato Melillo, ma lo ricordiamo di nuovo anche noi, il tempo di Piopompa e degli altri archivi, dossieraggi, informazioni, oggi si lamentino, è vero, è una grande questione, ma il dato politico, per esempio, quello relativo ai conflitti potenziali espressi dal ministro Crosetto, era un dato lucente, chiaro, alla luce del sole, forse avremmo dovuto approfondirlo da un punto di vista cronachistico, dell'opportunità, come degli altri ministri, penso alla ministra del turismo, al ministro del sviluppo economico, perché si poteva, perché accettava la presidenza del consiglio di arrivare a una ipotesi di incarichi che davano la stura a sospetti o a polemiche, e perché la stampa italiana ha dovuto utilizzare i servizi, le polizie, le direzioni distrettuali, non so che altri, le SOS o SOS, se così vogliamo dire, perché c'è pure nelle immagini, le SOS è un atto di emergenza e di aiuto e non di inquinamento, ma perché siamo dovuti arrivare lì e non invece abbiamo realizzato, commentato, giustificato oppure contestato un fatto che, secondo me, dieci anni fa, quindici anni fa, persino ai tempi di Berlusconi, ricordo la nomina poi bloccata di Previti al ministro della difesa, non sarebbe stata possibile. Questa, secondo me, Alessandra, è la colpa più grande e più vera e più acuta del giornalismo italiano. Annalisa Terranova. Allora, io sto ai fatti. Intanto, diciamo, se ho capito bene, Caporale sta sostenendo che siccome è sempre stato fatto, diciamo, il centro-destra non si dovrebbe lamentare di quello che è emerso. Se non ho capito male, ma mi sembra che questo abbia detto... Forse hai capito male. È curioso, ma non è legittimo. È curioso per coloro che hanno usato questo sistema oggi dicano... No, perché appunto, allora, stando ai fatti, emerge questo, che questi accessi riservati riguardavano vari ministri del governo Meloni, riguardavano Fabio Rampelli, che è il vicepresidente della Camera e lo stesso Melillo conferma che questi accessi, diciamo, si indirizzavano principalmente ad una parte politica. Ha anche detto che esiste un traffico di questo tipo di notizie. Siamo, credo, tutti d'accordo che questo tipo di notizie, se utilizzate in modo poco responsabile e con l'obiettivo di danneggiare la reputazione e l'onorabilità del soggetto di cui si scrive, diciamo, sono dossieraggi, inquinamento dei pozzi, non so come lo vogliamo chiamare. Per di più... Per correttezza dobbiamo dire comunque che prevalentemente la destra, ma non solo la destra, perché c'è anche Conte, Guido Alfa, la fidanzata di Conte, Matteo Renzi, è bizzarro che la destra... Scusate, sarebbe stato bizzarro se il centrodestra avesse tacciuto rispetto a questo. Tanto più, scusate, e volevo concludere, tanto più che sono coinvolti, indagati, insomma, dei giornalisti di un quotidiano che fa capo ad un personaggio molto influente della vita politica italiana che di recente ha dichiarato che non sopportava di vedere la faccetta della Meloni per i corridoi di Palazzo Chigi. Insomma, se facciamo due più due mi sembra che c'è materiale per parlare, insomma, non per fare il vittimismo, perché il vittimismo non piace a nessuno, non per fare un plottismo, però insomma, il minimo è richiedere che si faccia chiarezza e carità. Ma perché non si insabbi tutta questa faccenda mi sembra. No, posso dire una cosa? Secondo me facciamo un uso improprio del termine dossieraggio. Il dossieraggio è composizione di un dossier che uno tiene nel cassetto per ricattare il diretto interessato. Qui è ricerca di informazioni che poi il giorno dopo finiscono sui giornali, se le informazioni sono utili. Quelle dei giornalisti sono finite sui giornali e sono l'80% delle richieste. Sono avvenute in due posti diversi, questo l'ha chiarito anche Melillo, quindi c'è un altro sospetto perché Striano concludeva alcune indagini nei suoi uffici della Guardia di Finanza e quindi c'è il dubbio che qualcuno più alto di lui di grado nella Guardia di Finanza fosse corrente di quello che faceva. Questo è esattamente il punto che è emerso anche, non in modo così diretto, ma indirettamente però sì, implicitamente, anzi dall'audizione di Melillo perché ieri Melillo ha sottolineato più volte questo fatto, cioè Pasquale Striano, dobbiamo dirlo per chi ci ascolta da casa, lavorava per la Direzione Nazionale Antimafia ma evidentemente, secondo quello che ha detto Melillo, utilizzava a parte altre banche dati e faceva accessi che riguardavano anche, insomma che non afferivano alla Direzione Nazionale Antimafia, ma essendo lui un finanziere alla finanza e questo è il punto anche sollevato da Matteo Salvini che adesso ascoltiamo. Questo è un particolare diverso, secondo me sì, Crosetto è stato particolarmente colpito, non solo lui anche la sua famiglia, da queste richieste in tempi molto antecedenti il suo ingresso al governo, tant'è che nasce poi da lui l'esposto che apre questa inchiesta. Poi è vero, il 20 ottobre 2022 vanno a cercare quelli che non conoscono del governo Meloni secondo le indiscrezioni, la lista dei ministri ci sarebbe stata il giorno dopo, non quella ufficiale, infatti vanno a cercare la Calderone, vanno a cercare Valditara che forse era un po' meno noto, insomma diciamo, non c'è mai un accesso sulla Meloni, secondo me perché non ci sono, non abbiamo abbastanza documentazione di quel che è stato fatto, perché il domani in realtà pubblica delle cose molto particolari sulla Meloni e la madre, quindi bisogna vedere come le ha ottenute, alcune cose, anche io posso andare a fare la ricerca, sapere se ha comprato o venduto una casa, lo posso sapere. Sì, ma questo è sulla casa, come su, avesse partecipazioni societarie, ovviamente questo con una banale ricerca che io faccio sempre, perché oltretutto sono dati che poi i politici devono rendere pubblico. Perché se è un campione di questi documenti è per fortuna, diciamo. Ma guarda, ne ho fatto principio insegnamento al corso di formazione dei giornalisti. Noi dobbiamo tenere presente, Alessandra, che il rischio vero di questa discussione è che poi queste attività, che sono attività giornalistiche lecite, dico, e che sono informazioni preziose, vengano confuse con quelle altre lecite e si dica no, non si può, invece la forza del giornalismo, la forza di un giornalismo onesto, che sia onesto naturalmente, non sleale, è quella di illustrare cose all'opinione pubblica che non si conoscono, ma che conoscendole producono una forza in più. Quindi il limite, il confine è stretto, è vero, ma dobbiamo Ma secondo te è stato valicato questo confine, Antonello? Prego? È stato valicato questo confine, secondo te? Se io utilizzo in modo improprio una connessione, diciamo così, professionale o amicale, al fine di far danneggiare un avversario politico o una personalità, quello è un confine improprio. Ma se io scrivo, racconto i fatti, la dote finanziaria, gli sviluppi delle faccende di Tizio Caio, che fa poi politica, secondo me all'opinione pubblica serve sapere se quel ministro fa affare o meno con x o y, poi giudica, vota o non vota, non deve essere per forza un problema penale, ma certamente è una forza dell'opinione pubblica. Quello che a noi deve interessare, a tutti noi, anche a coloro naturalmente tra noi, la pensiamo in modo a volte diametralmente opposto, è che non venga, come dire, con la scusa della confusione, dell'inquinamento, bloccata, bruciata, manganellata, per usare una parola molto in voga, il giornalismo d'inchiesta. Quello farebbe male a tutti, a tutti noi. Quello sì, però bisogna che stia in percorsi corretti. Quell'esempio che faccio prima, non vado a rivolgermi a un ladro perché entri a scassinare casa di un altro, perché dico c'è documentazione che poi può avere un interesse pubblico. Credo che stia dicendo la stessa cosa. Anche se il giorno dopo poi pubblico il contenuto di quel materiale. Non è un metodo accettabile dal punto di vista etico. Peraltro Antonello Caporale sollevava la questione, non c'era bisogno di rivolgersi sul caso Crosetto. Avendo vissuto tanti anni all'interno dei giornali che erano di centro-destra, la storia politica mi interessa meno perché se l'attestata è il domani, il domani tendenzialmente cerca qualcuno e non cerca qualcun'altro. come sarebbe stato. Però l'idea viene ovviamente, certo, è reciproco. Come sarebbe successo a Libero piuttosto che in altri giornali. O la verità. Quindi non era interessato a cercare la Meloni in quel caso, ma cercavano la Schlein o qualcun'altro. I colleghi del domani, noi dobbiamo dirlo, non è che sono valorosi professionisti non al guinzaglio del loro editore. Editore, Carlo De Benedetti. Perché faremo un atto non di scortesia professionale, di grandissima confusione. L'editore dice quel che vuole, con i tempi che vuole, con le parole che vuole usare. Chi fa giornalismo d'inchiesta non va a fare il cameriere del suo editore. Almeno in tanti non lo fanno. E dobbiamo dirlo. Dopodiché le responsabilità dovranno essere accertate. Se hanno sbagliato naturalmente ne risponderanno. Ma mai dire, perché altri sono i camerieri, non loro. No, no, ma guarda, io facevo una differenza. Il direttore del domani è stato protagonista, insieme a un altro collega, di un altro scoop. Che però aveva il percorso inverso. Cioè, il maggiordomo di Papa Ratzinger è andato, lui, a cercare nei cassetti, ha trovato la documentazione, l'ha letta, ha detto, beh, questo è scandaloso che ci sia in Vaticano. L'ha portato fuori al giornalista e il giornalista dice, insomma, qui c'è una bomba, la pubblico, la scrivo. Quello è il percorso corretto. Poi uno può... Ci sarà sempre l'interesse della fonte, ma non mi importa. Andiamo in pubblicità, perché comunque resta il tema di scontro politico, naturalmente però resta anche il contorno di tutta questa vicenda, ancora non è chiarissimo, insomma, dei punti da chiarire ci sono. Nemmeno se sono stati pagati. Esatto, c'è anche questo elemento. Finora sembra di no, però anche lì Melillo mi pare che non abbia escluso. Vediamo, pubblicità. Ringrazio i servitori dello Stato, fedeli allo Stato, come il Dottor Melillo, che ci aiuteranno a fare chiarezza, che poi la Lega, stando a quello che leggiamo, perché io non ho altri elementi in più di quello che leggiamo, sia il partito più spiato, più infamato, più indagato. Per un certo verso mi inorgoglisce, perché vuol dire che per un certo tipo di sistema marcio siamo i più scomodi e quelli da colpire. Per un altro verso mi preoccupa perché... Perché? Non è rimasto... C'è rimasta la curiosità del perché, ma insomma, la cosa importante era questo, anche per, lo dico anche a Annalisa Terranova, in realtà è la Lega che ha avuto, non fratelli d'Italia, ma la Lega che ha avuto il maggior numero di... Un momento soltanto perché volevo intanto dare il buongiorno e il benvenuto a Paolo Cirino Pomicino, che ci sarà prezioso anche per la lunga esperienza, perché anche nella Prima Repubblica ci sono stati i dossieraggi. Sì, non c'è dubbio, ci sono sempre stati nella storia della Repubblica, ci sono stati sempre gruppi di potere che tentavano in qualche maniera di insidiare la stabilità politica che esisteva a quell'epoca, al di là del cambio dei governi. Il dato vero è che adesso l'impressione che tutti hanno è che la politica non guida più nulla, che la politica insegue la società italiana e insegue in qualche maniera pezzi importanti dell'amministrazione dello Stato o pezzi importanti dell'economia italiana e internazionale piuttosto che guidarla. E questo fa arrivare a una cosa che, devo dire la verità, siamo tutti disorientati perché da un lato è una cosa grave che rischia di minare anche la sicurezza nazionale, dall'altro però per quello che si evince fino adesso, i dossier non ce ne saranno e rischia di essere che la cosa finisce in braga di tela con una sorta di cosa da operetta per la quale l'amico Fritz ha chiesto per cortesia un piacere di sondare se Pomecino si chiamava Cerino oppure no. Mi sembra che in questo il punto più importante lo ha detto Rosetto quando ha detto un attimo io sto in silenzio e devo dire che anche la Presidente del Consiglio non deve chiedere, non deve dire noi vogliamo sapere i nomi, lei deve dire i nomi, voglio dire accanto, accanto all'autonomia della magistratura che farà il suo corso, però il Capo del Governo deve avere tutti gli strumenti perché possa fare le stesse una inchiesta interna delle sindole amministrazioni e capire esattamente che risposta può dare al Parlamento. Insomma il silenzio in questo periodo qua, silenzio monitorante... Il silenzio c'è relativamente nel senso che tutti, anche Giorgia Meloni, hanno lanciato grandi allarmi, quindi non c'è il commento, il giudizio sulla gravità della cosa, l'allarme sulla gravità della cosa è risuonato forte da tutte le forze politiche, in particolare da Salvini come ho sentito dall'inizio e da Giorgia Meloni, quindi lei dice però dovrebbe tirar fuori, dovrebbe essere... Ma la Rosa Rappi ha traduto ieri, perché quando il Presidente dell'Autorità Nazionale Antimafia dice che a suo giudizio ci sono ben altri circuiti mediatico giudiziari che si muovono e che in realtà soltanto per una piccola parte di quegli accessi sono passati attraverso la banca dati della Commissione, se lo dice lui è vero che credere significa non sapere, però se lo dice il Presidente dell'Autorità Nazionale Antimafia rispetto a questo il problema diventa molto più grave, voglio sperare che stamattina Tantone ci dica per quale motivo ha subito gettato l'allarme prima ancora di sentire alcuni protagonisti, a mio giudizio il Presidente Tantone poteva un attimo sentire Laudati, Striano e chi altro dovrebbe essere sentito prima di arrivare a spiegare di che cosa si trattava, invece ha gettato subito... E forse ha fatto il contrario, siccome è uscita questa storia dei dossieraggi, lui ha detto non si tratta di dossier, poi ha chiesto di essere sentito che lo vuole spiegare, che poi potrebbe aver dato enfasi ma al contrario, per minimizzarla... lo capiremo oggi però questo, perché alle 10... Non sapremo nulla dall'audizione di Cantone... No, di Copasir no, dell'antimafia sì però, quella del Copasir sarà segretata all'antimafia però... Può chiedere di andare in seduta segreta perché trattandosi di indagati di chiesta in corsa... Menillo non lo sapeva niente... No, certo, Annalisa Terranova chiedo scusa perché l'abbiamo interrotta più volte, però intanto abbiamo sentito Salvini dire che è ancora più, insomma è stato il primo, c'è questo tema un po' di vittimismo della Lega... Che sono i più spiati... Eh, sono i più spiati... Ho sentito, sì... Allora, innanzitutto siamo in un clima preelettorale in cui queste votazioni... Le votazioni per la presidenza dell'Abruzzo sembrano la carica di Balaclava, quindi insomma gli si dà un'importanza enorme, giustamente perché chiaramente se si conferma il segnale della Sardegna, anche se si tratta di una vittoria con tutti i limiti che conosciamo, eccetera, è indubbiamente un brutto momento per il governo di centrodestra e se invece venisse riconfermato Marco Marsilio tirerebbero un sospiro di solivo, quindi era naturale che in qualche modo questo tipo di notizia venisse, non dico cavalcata, ma insomma commentata con i toni che abbiamo visto, sia dalla Premier di Giorgia Meloni... è un buon collante per la coalizione... Allora, io non sono complottista perché non mi piace esserlo e non mi piace neanche quando una forza politica fa del vittimismo, però perimetriamo un attimo il problema. C'è un diritto all'informazione e un diritto a essere informati, però c'è un diritto prevalente che è quello alla riservatezza, cioè c'è un diritto a non essere spiati. Stiamo a questo e possiamo dare un giudizio su quello che sta accadendo. Poi se sarà un cabaret, come dice il signor Pomicino, o se sarà un dossieraggio... Cioè o è la P2 o è il cabaret o non è... Ma sì, diciamo anche che a parte invertite, se ad essere oggetto di questo tipo di accessi illeciti fossero stati esponenti di sinistra, come è stato scritto da Cerno per esempio in un editoriale sul tempo che io condivido, già avremmo avuto i sindacati, l'ANPI, gli studenti, la mobilitazione di piazza contro gli inquinatori dei pozzi, gli avvelenatori della democrazia, eccetera, eccetera. Non sta succedendo nulla di tutto questo. I leader del centro-destra si sono limitati a dire, vabbè, guardate qui però c'è qualcosa che non va, cerchiamo di andare in fondo e di non insabbiare. Questo è stato detto. Mi sembra il minimo sindacale che potessero dire. Avrebbero anche potuto enfatizzare di più, secondo me. Non lo hanno fatto, anche la leader del Partito Democratico dopo un po' di letargo sulla notizia si è svegliata e ha detto anche lei che era una cosa grave, cioè stiamo a questo. Poi l'audizione di Melillo, io l'ho trovata interessante anche per il fatto che lui ha giustamente cercato di difendere un'istituzione, che è quella della Direzione Nazionale Antimafia, richiamando quelli che sono i compiti di questa istituzione e richiamando la necessità di questi accessi ai conti bancari, ai movimenti di denaro, eccetera, che servono per andare a capire, a scovare le malefatte della criminalità organizzata. Quindi insomma, lui ha cercato di mettere al riparo giustamente questa istituzione da utilizzazioni devianti che invece mirano a colpire personaggi politici o uomini dello spettacolo o personaggi del mondo dello sport, eccetera. Perché siamo dinanzi ad un'attività deviata in questo caso, cioè l'ha detto lui. Sì, però questo è un tema politico che è affiorato subito, soprattutto con la polemica nei confronti di Caffiero Derao, che è il ora parlamentare deputato dei Cinque Stelle e che è stato predecessore di Melillo. Chiedo a Maria Teresa Meli, c'è una polemica soprattutto di Italia Viva e anche la destra che voleva che fosse escluso da tutto questo. La risposta però è stata attenzione perché diventa un attacco anche all'istituzione. c'è un tentativo di delegittimare, smontare, cambiare la direzione nazionale antimafia. Allora, per quanto riguarda la richiesta del fatto che Derao non fosse presente, ieri leggevo sull'Huffington Post, che non è un pericoloso giornale di destra, che diceva che anche se parte l'esa, come dicono i Cinque Stelle nel difenderlo, se parte l'esa anche in quel caso non deve essere presente. Perché questi accessi abusivi erano durante la sua direzione di Derao. Poi attiene alla sensibilità, se uno non ha questa sensibilità di farsi da parte, essendo che riguardava la sua gestione, vuol dire che non hai questa sensibilità, evidentemente lui non ha questa sensibilità, né tantomeno lo ha il Movimento Cinque Stelle. e dopodiché il fatto di tirar fuori la direzione nazionale antimafia, l'attacco alla direzione antimafia, il fatto che ci sia tutto da rivedere è ovvio che è strumentale a operazioni, dopodiché è chiaro che qualcosa da rivedere c'era, tant'è che come raccontava Bekis, quando Melillo è andato a dirigere ha cambiato le regole. Quindi evidentemente non è tutto, poi tutto è perfettibile e continua a dire Melillo che comunque sono ancora problemi di sicurezza rispetto ai dati della DNA. Quindi un problema c'è, poi è ovvio che non bisogna poi aprire un barco perché poi si dica no, basta, non ci sta più la lotta alla mafia, questi sono altri discorsi, però è chiaro che ci sono dei problemi di sicurezza che devono essere ribagliati di nuovo, secondo me. Chiedo a Antonello Caporale questo, se c'è anche dentro questa vicenda questo attacco alla direzione nazionale antimafia, un po' perché è la tesi anche mi sembra del direttore del tuo giornale, non so se... Eh un po' c'è, come c'è l'attacco al giornalismo investigativo, tre cose, chi fa il giornalista ha una sola luce, un solo dio, la notizia, se la notizia è vera e verificata la dà, tanto che ha diritto a non riferire la fonte, è un diritto sacrosanto che egli esercita in qualunque condizioni, uno. E quindi la prima cosa è che i colleghi, se hanno saputo o chiunque sappia una notizia certa, la pubblica, perché è pane quotidiano della nostra professione, due. Mi ha colpito il fatto che non dimentichiamo che questo Paese, ben oltre le informative sui movimenti dei conti correnti, ha subito la devianza, perché sono i servizi accusati di stragismo, o dimentichiamo questo, e sono ben altri i fatti dolosi e colposi in cui il Paese si è trovato a venire. Ricordiamo che al tempo di Ciampi le luci di Palazzo Chigi e i collegamenti telefonici subivano un blackout, tanto per ricordarci che storia anche recente noi abbiamo di commistione purtroppo. Tre, un elemento di natura, come dire, linguistica, ma mi colpisce, che un verbo usato dalla mala romana, infamare, mi ha infamato, sei un infame, sia adesso sulla bocca dei politici. È una brutta cosa, è un brutto segno. Il segno, e qui ha ragione Pomicino, di una politica sempre più debole, più infragilita, che si espone persino linguisticamente a questa commistione, perché non ha la forza, l'autorevolezza e anche la capacità di essere credibile. E dunque usa questi aggettivi e questi verbi che invece sono sempre risuonati nella bocca di altri, noi abbiamo conosciuto attraverso i sceneggiati televisivi, i film televisivi, e li usa con una leggerezza, levità, che secondo me denota soltanto irresponsabilità. Detto questo, speriamo che non sia una bagatella di nuovo. Allora, vedevo che Cerino Pomicino scuoteva la testa, però poi volevo fare anche una domanda più specifica, perché lei, che mi viene proprio da Salvini, non da questa dichiarazione, ma da quella dell'altro ieri in realtà, e cioè il fatto, e lei ha sottolineato che, insomma, l'allusione, il richiamo che ha fatto ieri Melillo è anche alla banca dati della Guardia di Finanza, era un finanziere, e Salvini ha detto, ma è i vertici della Guardia di Finanza? Certo, è probabile che ci sia, no, è probabile, ci sono diverse banche dati che non sempre si uniscono e interferiscono fra di loro, e quindi c'è la possibilità che l'arma dei carabinieri o la Guardia di Finanza facciano alcuni accertamenti, alcuni accessi, senza che la direzione nazionale antimafia, in qualche maniera... O che comunque potevano, non si sono accorte che Striano faceva questi accessi? O darsi anche questo, anche se il Melillo mette in discussione che in realtà solo un finanziere possa fare l'attività di risvolto, ben 800 accessi, i cosiddetti illeciti. Però io vorrei portare l'attenzione, anche perché stamattina ho la fortuna di avere un tavolo di giornalisti autorevoli e anche quelli tollenati, anche il mio amico laborale. Qual è il tema che questo Paese ha? Noi stiamo ragionando di accessi illeciti o illegittimi fatti da alcune forze dello Stato all'interno delle amministrazioni. Ma voi sapete che noi stiamo vendendo o abbiamo venduto una società che si chiama Cervend, e Begis certamente sta di che si tratta, Cervend è una società che ha tutti i dati del mondo delle imprese sul merito di creditizia e sul rapporto nei riguardi della Banca d'Italia. Viene venduta ad una società, da un signore, sarà pure l'Arcangelo Gabriele, però insomma è un signore patrignano che non so chi sia, e che ha nella sua forza economica ben 12 miliardi di investimenti che investitori anonimi gli hanno dati. Questa parte, insieme ad una struttura informatica, colloca in una fase di un mondo disordinato anche sul terreno geopolitico, tutto un pezzo di notizie riservate che sono molto richieste dalla Banca d'Italia e dal mondo delle banche commerciali. Lei dice che non è il problema... Non è solo il problema di adesso, di Vasquale Estriano, tutte queste cose sembrano appunto delle cose da Disneyland, ma ci sono delle cose molto più... Non vorrei diminuire sull'armo, ma siccome sono abbonato Cervend da 30 anni e ne ho vissuto tutto, sono fruitore di Cervend, ho un contratto commerciale per poter accedere alla loro banca d'Italia. In tutti i giornali dove sono stato c'è un abbonamento Cervend. Cervend era all'inizio la società in house dell'Union Camere, cioè di tutte le camere di commercio per gestire questi dati. Poi il servizio è stato liberalizzato, quindi Cervend è uscita da Union Camere ed è uno dei soggetti rivenditori di quelle informazioni, su concessione, che può essere ritirata in qualsiasi momento. Non è un elemento di così grande allarme. I dati restano di Union Camere, cioè delle Camere di commercio italiane, che possono decidere di non venderli più a Cervend. Non c'è, non c'è banca che non chiede a Cervend. Perché è quella meglio fatta, l'ha provato in tanti a fare lo stesso servizio. Ho capito, benissimo, ma voglio dire, è una società che ha una massa di notizie riservate del mondo delle imprese che viene venduta al primo repassa. Certo che non sono sue, ma che puntualmente è solo un punto di riferimento anche per la banca centrale e per le banche commerciali. Ma voglio dire, queste questioni devono essere affrontate in un'unicità di intenti dove la riservatezza da un lato deve essere accompagnata dal diritto dell'informazione. Ci manderebbe altro. Però bisogna che ci sia una stabilità politica. Torniamo al tema. Io vorrei però spostarvi su un altro fronte perché nella giornata di ieri, oltre a questo caso, è stata, insomma, l'attenzione si è concentrata anche su alcune parole che hanno fatto uscire dallo staff di Giorgia Meloni dell'incontro con i sindacati di polizia dove lei ha lanciato un allarme invece sulla sicurezza del G7 che ci sarà in Italia, in Puglia, eccetera, ha parlato di un clima preoccupante per le manifestazioni, siccome questo è il cuore caldo anche della polemica e anche della tensione con il Quirinale, tensione negata, ma forse c'è poco da negare su questo, poi lo vediamo ancora, ha proposto addirittura, insomma, si è capito che pensano a un daspo per i manifestanti, eccetera. È una strategia anche qui di comunicazione, è un allarme reale, Maria Teresa Meli? Allora, io prima di tutto penso che ieri Meloni abbia detto quello che una Presidente del Consiglio non deve dire, perché non deve essere la Presidente del Consiglio a procurare allarme al Paese rievocando i tempi degli anni di più o meno, cioè la Presidente del Consiglio non è quello il suo mestiere, poteva farlo Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, se voleva fare politica, ma se fai la Premier impari a fare la Premier e capisci qual è il tuo ruolo istituzionale, cosa che lei puntualmente non fa e non l'ha fatto neanche ieri evocando quest'allarme. Dopodiché, che ci siano queste cose, noi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, non sappiamo se i servizi sono allertati, se effettivamente col fatto che noi ospiteremo, mi pare, a Giugno nel G7 in Puglia, insomma, una serie di cose. Però non mi sembra il caso che la Presidente del Consiglio lanci un allarme in un momento in cui apparentemente non c'è niente di tutto ciò, se non le manifestazioni di quattro ragazzini che non conoscono la storia del Medio Oriente, che vanno là con le bandiere palestinesi, hanno 15, 16, 7 anni, vanno a volto scoperto e non c'è bisogno di alcuni che vengano mangarellati. E questa è la situazione adesso. Se lei avesse degli elementi in più perché i servizi le hanno dato e fornito gli elementi in più, non fa un allarme che poi viene diffuso a tutti i giornali e oggi tutti i giornali sono costretti ad aprire il mio giornale di tolle spalle, allerta di meloni, brutto clima, l'idea del DASP, che sembra che sia succedendo chissà che cosa. Insomma, io sono stupefatta dal comportamento della Presidente del Consiglio. Dopodiché, evidentemente questa è la norma, perché ormai tutto si può dire, qualsiasi sia il ruolo di un politico può dire tutto. Si sono dimenticati di stare al governo. Secondo me il problema del centro-destra è che ogni tanto deve fare un ripasso la sera e ricordarsi che sono io che sto al governo, non sono più l'opposizione che sto al governo, quindi forse devo dire alcune cose e non altre. Può essere un'ingenuità o può essere una sollecitazione motivata ad alzare il tono? Ma questo sarebbe però pericolosissima. Tutti vogliono parlare di questo, ma dopo la pubblicità, tassativa purtroppo. No, per fortuna. Per fortuna, per fortuna. Di nuovo in diretta. Allora, a proposito dell'allarme, sicurezza, manifestazioni, ordine pubblico in occasione del G7 che si terrà in Puglia in giugno, l'allarme di Giorgia Meloni, Maria Zameli diceva, sì, però stupisce che la Presidente del Consiglio lanci lei l'allarme, lei deve gestire, non sta al governo, non lanciare l'allarme. Allora volevo chiedere, intanto Annalisa Terranova è un tema di tentazione per il ruolo di opposizione, per essere di lotta e di governo che c'è sempre, però effettivamente non è rischioso su temi così delicati, non si rischia, lo diceva anche Cerino Pomicino, prima della pubblicità, poi di alimentare magari, di creare una suggestione per cui poi qualcuno effettivamente la tensione la fa salire. Sì, intanto il Premier stava parlando con i sindacati di polizia, quindi il tema era l'ordine pubblico. Sì, però era a porte chiuse, poi lo staff fa uscire questa cosa, quindi evidentemente lei voleva che si sapesse, se no uno è giusto parlarne a porte chiuse. Certamente, io vorrei ricordare però che il paragone tra le proteste di piazza e possibili disordini in vista del G7 o parallelamente al G7, addirittura con il paragone tra le manganellate di Pisa e il G8 di Genova, che fu un G8 drammatico come tutti noi ricordiamo, non è stato fatto da Giorgia Meloni, ma è stato fatto dai media all'indomani appunto degli scontri tra questi studenti e la polizia a Pisa. Quindi questo è un dato, cioè non è stata la Meloni a parlare di allarme G7 per prima. Quindi si inserisce nella scia di una polemica che era stata creata in precedenza. Dopodiché che si tratti di quattro ragazzini, anche questo è discutibile, perché parliamo di oltre mille manifestazioni che sono state fatte dal 7 ottobre in poi sulla questione della pace a Gaza, delle bombe, dei bombardamenti contro i palestinesi, eccetera. Ma sono manifestazioni che spesso degenerano, non sono in scontri con la polizia, ma degenerano anche in atti che sono francamente disdicevoli, come bruciare l'immagine di Salvini, bruciare l'immagine di Giorgia Meloni, eccetera. Su questo c'è stato anche un richiamo del capo dello Stato. Posso chiederti una cosa? Sì, concludo un attimo. C'è stato su questo un richiamo del capo dello Stato esattamente come c'è stato per le manganellate, solo che tutti ricordano il richiamo sulle manganellate, pochi ricordano che ha anche detto che non è una bella cosa bruciare in piazza l'immagine della Presidente del Consiglio. A ogni manifestazione purtroppo questo avviene e nessun Presidente del Consiglio, nessun vertice delle istituzioni dice che c'è il ritorno agli anni bui, perché gli anni bui sono gli anni di piombo, che sono una cosa diversa dal bruciare un fantoccio, cioè sono una cosa assai diversa, siccome io li ho vissuti gli anni di piombo, anche tu, quindi sappiamo che è una cosa molto diversa ed evocarli, non so quanto sia saggio, corretto e opportuno da parte di chi presiede il governo del nostro Paese. Io questo non lo so, dipende dai punti di vista, insomma, però una leader che è Presidente del Consiglio, ma che è anche leader di uno schieramento politico che è sotto attacco in questo momento, se fa riferimento ad un clima particolarmente acceso non ci vedo niente di più situazione. Ma non deve trasformare molto. Antonello Caporale. Io ho l'unico piacere di avere qui la mia libreria, per cui ho avuto il tempo, attraverso il tempo disponibile dalla pubblicità, di trovare il libro di, eccolo qua, non so se si vede. Si vede, si vede. È un bel libro di un accademico, di un sociologo dell'economia, che si interroga, il libro è uscito due mesi fa, è anche ben scritto, è molto utile, ve lo segnalo, che si interroga sul perché le piazze siano vuote, perché questa astenia della gente, della società, perché questo rifiuto della politica. E tutto ad un tratto incontriamo il paese dell'alta tensione, ma questa è un'altissima bugia, è una menzogna quadrupla. I ragazzi manganellati senza titolo, senza parola, senza scuse, quindicenni, sedicenni, diciassettenni, diciottenni, lo dico a Terranova così, raccolga di nuovo l'età, quindicenni, sedicenni, diciassettenni, contestavano gli eccesi di Israele nei confronti della popolazione di Gaza, 29 mila morti. Contestavano questo fatto, figurarsi che versione, nello stesso giorno, leggo, in cui gli eccesi di Israele erano segnalati e contestati dal re di Svezia, dal primo ministro belga, dal presidente francese, dal primo ministro spagnolo e dalla vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che diceva, li uccidete, stanno mangiando foglie e stanno mangiando mangimi animali. Corriere della Sera, pagina 5, di tre giorni fa, mangimi per animali e voi li uccidete. Questo era il tema eversivo della piazza, che diceva, basta, fermatevi con Gaza, perché i palestinesi non sono terroristi. Non ho detto, non è che era un tema eversivo, non è che hanno fatto bene a mangiare della vicepresidente, non vorrei adesso passare per una filo questurina. No, scusate, perché io non ho detto questo. La presidente del Consiglio, trasformandosi in un hater, in colei che manipola la realtà, la riproduce per fatti suoi, per la pochezza di questo Abruzzo, che deve andare al voto, dobbiamo creare un po' di paura. E che cosa c'è di meglio? Un po' di servizi o di indagini inquinanti e un po' di paura per le strade. E che fa? Ecco che Giorgia Meloni, malgrado, torna ad essere quella che era. Fronte della gioventù, lotta di piazza e i manganelli che le ha sfettivato e che adesso, invece di raccogliere e di dire alla polizia che hanno ben oltre responsabilità rispetto ai ragazzi di 15 anni. Allora l'inchiesta l'ha inventata Giorgia Meloni, le mille manifestazioni sulla Palestina le ha inventate Giorgia Meloni per conquistare la borsa. Antonello, abbiamo chiaro il tuo ragionamento. Io sono io che sono stupefatta, non Maria Teresa Meli. Qua si sta, diciamo così, ingigantendo la dichiarazione di Giorgia Meloni su un clima di allarme che ogni sabato ci sta una manifestazione, ci sta un corteo in qualche città italiana. È vero che soltanto una limitata percentuale di queste manifestazioni hanno determinato degli scontri con la polizia. però che esista questo fenomeno, la piazza, che poi è certamente per i poveri palestesi. È un problema della piazza che la gente vada a manifestare, è diventato un problema in Italia. che spesso sono manifestazioni contro il governo, che ci sono. Ebbè, c'è male, c'è diventato un problema in Italia. E quindi lei non li può commentare, non può commentare, perché fa la presenza del Consiglio, se fanno delle manifestazioni contro di lei, non può dire che c'è un clima di scontro. Scusate, ma che state sostenendo? Allora, un momento, penso che la discussione però messa così sia un pochino distorta. Il punto che si sollevava, mi pare di capire, è un altro, il giro a Franco Bechis e anche a Cirino Pomicino, è assodato che c'è naturalmente un tema di piazze, di gestione dell'ordine pubblico, sempre quando soprattutto ci sono i vertici internazionali, ma assodato questo, è opportuno che il Presidente del Consiglio, che è chiamato a dirigere, a gestire, e a dare in carico al Bibinale, insomma, a coordinare tutto questo e neanche la responsabilità, crei un allarme. Ma non è opportuno, è vero, è vero, esiste un clima di tensione. Ci sono cortei nelle città italiane ogni sabato, ce ne sono stati più di mille, ci sarà un G7, ci sarà un G7, ci sarà un G7. Ma non è paragonabile, non è paragonabile ad altre fasi. Il G8 non l'ha fatto la Meloni, l'ha fatto per prima, credo, almeno io l'ho letto, su Quotidiano, la Repubblica, paragonando le manganellate di Pisa alla possibilità che ci fossero poi, in vista del G7, scontri sempre più accesi e che a questo avrebbe potuto determinare un clima di allarme nel Paese. Se lo dice un leader politico, no, è un tema di ruoli, stiamo sollevando un tema di ruolo. Franco Bechis intanto se c'entra la campagna elettorale anche. No, non credo, credo che c'entri, lo dico però diciamo da mie supposizioni, conoscendo da tanti anni Giorgia Meloni psicologicamente come è, posso dirti, secondo me lei era una furia per l'uscita di Mattarella sui manganelli e si sarà frenata, morsa la lingua, in più di un'occasione prima di uscire. La furia è aumentata, perché questo invece, diciamo, è notizia che conosco, quando è stato visto lo stesso episodio dalle telecamere di dietro della polizia, quindi lo stesso episodio delle manganellate ai ragazzi, ha degli elementi diversi da quelli che abbiamo visto noi, e lì essere bloccati, perché sennò andavi in frontale col capo dello Stato e non poter dire niente, ha aumentato quella rabbia. Però le immagini conosciute perlomeno sono... Le immagini che conosco... Tu hai visto le immagini, altre immagini dove i ragazzi erano quelli di Pisa? No, c'è qualcuno che non è un ragazzo lì in mezzo, che in prima fila tira un cazzotto a uno dei poliziotti schierati, quello di fianco scatta, scattano tutti. Cosa vuol dire in quel caso lì? Non c'è un comando, perché quelli dovrebbero essere addestrati per non scattare in questa occasione. In più erano messi, ma questo lo riconosce anche chi dovrebbe avere la gestione della pubblica sicurezza nazionale, c'era un posto di blocco dove non doveva esserci, perché se tu volevi proteggere il cimitero israelita, ti mettevi davanti all'obiettivo sensibile, era anche più comprensibile a tutti, se di fronte a un tentativo di sfondamento per devastare il cimitero israelita, e la polizia reagiva, ragazzini o non ragazzini, quello era comprensibile. In quell'imbuto, senza nessuno che fosse andato avanti a parlamentare con i ragazzi, questa è un'analisi interna, è chiaro che sono stati compiuti degli errori gravissimi, non avendo nessuno al comando di quei poliziotti che erano lì schierati, di fronte a una provocazione, i ragazzi insultavano, urlavano, e a questo devono essere abituati a sentirselo dire senza muovere un ciglio, qualcuno, non più ragazzo, ha fatto un gesto violento nei confronti di un poliziotto, ed è partita la parapiglia, sono scattati tutti così, e dimostra che non c'era un comando che diceva, no, fermi tutti. E magari isolavano quella persona un po' più anziana che c'era. C'è stata una gestione negativa. Quella gestione negativa... Ha fatto arrabbiare Giorgia Meloni e l'ha portata a dire questo. Sì, perché dice ancora di più, c'era stata la provocazione, ci sono degli infiltrati, così così. Io resto sul tema però istituzionale, anche che trovo interessante. Il dato che vorrei dire alla signora Terranova, certo che ognuno può dire quello che vuole, però è la funzione che fa l'ordine, nel senso che il Presidente del Consiglio deve spegnere e deve rassicurare, deve spegnere i fotonai che possono esistere all'interno di un paese democratico come il nostro e rassicurare perché è il capo del governo, è il capo di quelli che hanno gli strumenti, i famosi bottoni alla nenne capaci di poter governare il paese. Se invece è il Presidente del Consiglio che allarma, in un momento nel quale... Mi ascolti, Naldi. Prego, la sto ascoltando. Se invece è un allarme, in un momento nel quale se c'è un paese che non è indignato è il nostro, nonostante tutti i problemi annessi e connessi alle vicende economiche. Noi siamo fermi da 30 anni e abbiamo una difficoltà dei salari più bassi di tutta Europa, le difficoltà dei sindacati, dei corpi intermedi, nonostante le difficoltà non è che facciano cose, potenti nelle piazze. Cioè è un paese di studi. Infatti le piazze vuote di cui parlava Caporale sono quelle dei sindacati. Infatti. In realtà i ragazzi sono sempre in piazza. Allora il Presidente del Consiglio si deve dare non un pizzico, come si vuol dire, ma due, tre, quattro nel caso del rapporto non nel Quirinale. Anche perché io ricordo sempre una battuta di Francesco Rossini quando ebbe una differente posizione con Giulio Andreotti. Se c'è un problema tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica di Casta e il Presidente del Consiglio, ce ne va. Perché naturalmente è questo il quadro esatto del nostro ordinamento. Insomma, la verità o è ingenuità o è, come dire, giovanilismo, perché grazie a Dio è anche abbastanza giovane, o al contrario... Non è l'Abruzzo, però. Eh? Non è l'Abruzzo. No. Non è l'Abruzzo, però. Sa chi è ormai il Stato l'onda della vittoria. La soffitta della Sardegna ha bruciato. Ha bruciato non poco. Adesso io non so i sondaggi in Abruzzo. Ma poi non li possiamo dire, stiamo tutti muti qui, per carità, imbavagliati. Però probabilmente insomma, incominciano ad avere questa sensazione di essere incalzati è vero dal cosiddetto campo largo. Ormai è un lessito un po' ridicolo, insomma. In Abruzzo è come la richiammione. Però il dato vero è che lei deve essere il Presidente del Consiglio che rassitura il Paese. Ma guardi, io se andiamo fuori da qui io non vedo tutta questa gente spaventata dalle parole della Meloni per cui stiamo tornando agli anni di piombo, eccetera. E allora perché dirli però dopo si arriva a questo. Però io vi devo interrompere ancora per la pubblicità e però lancio la domanda che ci facciamo. Quindi c'è un problema fra il Quirinale e il Palazzo Chigi? Pubblicità. Mi riferivo ai parlamentari a diversi parlamentari di sinistra e istituzioni sono come li devo chiamare? Mostri? Non so, come magari loro mi chiamerebbero a me ma sono istituzioni signore ma non so se gli vogliamo togliere pure questo status. No, ce l'avevo con loro cioè parlavo di un discorso guarda io appunto quando ho da attaccare qualcuno attacco qualcuno nel senso se ho da dire qualcosa indipendentemente da chi è la dico queste ricostruzioni che si fanno ripeto vedo insisto vedo un tentativo di costruire uno scontro artefatto con il Presidente della Repubblica che non esiste. Io ho un ottimo rapporto col Presidente della Repubblica con il quale mi confronto molto spesso su tutte le grandi questioni del governo di questa nazione trovo diciamo molto sbagliato e anche una forte mancanza di rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica a tentare di utilizzarlo per un interesse di partito che la sinistra ha non potendo dire la ragione per la quale non vuole che i cittadini possano scegliere liberamente a chi farsi rappresentare si cerca di creare lo scontro con il Capo dello Stato per dire vedete che la Meloni vuole togliere i poteri al Capo dello Stato ma chi è vagamente diciamo come posso dire serio ok sa benissimo che io ho fatto una riforma costituzionale che volutamente non tocca i poteri del Capo dello Stato. Allora c'è un problema con il Querinale anche alla luce dopo aver riascoltato queste parole Giorgia Meloni era a Toronto dopo essere stata a Washington e comunque è stata l'unica volta che ha parlato diciamo di questo problema di queste tensioni che sono state descritte ma soprattutto rivelate dalla sequenza di comunicati dichiarazioni prima di di Mattarella e poi di Giorgia Meloni Giorgia Meloni assolutamente sì infatti ho visto questa intervista in cui la Premier si arrampicava un po' sugli specchi per spiegare come mai all'improvviso l'istituzione erano i parlamentari della sinistra del PD che peraltro lei non ha mai chiamato cioè non gli ha mai dato l'onore di far parte delle istituzioni ha sempre chiamato genericamente sinistra quindi dopodiché lei dice ah io se devo dire qualcosa a qualcuno glielo dico in faccia sappiamo che siccome quel qualcuno è il Presidente della Repubblica non poteva dirglielo in faccia perché sarebbe stata crisi istituzionale gravissima e quindi ha usato quelle forme là dopodiché è una diciamo una tensione inevitabile perché un certo comportamento del centrodestra inevitabilmente provoca una diciamo non è una cosa che è gradita al Presidente Mattarella come non è evidentemente gradito e anche in questo caso lui però non può dire nulla la riforma del premierato che stanno per fare cioè che vuole fare il centrodestra chiaramente il Presidente della Repubblica non può dirlo esplicitamente perché non è una cosa che riguarda il Parlamento lui non ha nessun ruolo in questa partita però è chiaro che ci sono degli elementi di tensione che si trascineranno poi ci sarà il giorno in cui Mattarella cercherà di difendere il governo perché serve che il governo sia difeso soprattutto perché siamo in una congiuntura internazionale complicata e ci sarà il momento in cui Mattarella farà appunto questi attacchi impliciti come anche quello che ha fatto l'altro giorno quando ha dichiarato era un attacco anche quello quando ha detto non sono un sovrano non promulgo le leggi che promulgono le condivido tutte ma non ho potuto sembrava esatto sembrava far intendere che c'era c'era almeno qualche legge di questo governo che lui aveva controfirmato ma che non lo vedeva d'accordo c'è un problema Franco Bechis tra c'è un problema c'è stato un dissidio capita però Giorgio Aurelio dice i nostri rapporti sono buonissimi è una frase di maniera tutti ricordiamo che pochi giorni prima aveva fatto anzi due giorni prima il capo dello Stato aveva fatto un intervento pro Meloni difendendola pubblicamente come capita sempre diciamo sia nello staff sia nelle relazioni personali del capo dello Stato con magari antichi esponenti della politica che sente c'è stato prima un pressing perché lui intervenisse dico quando c'è stato le uscite di Vincenzo De Luca che sono state un po' sopra il limite consentito e lui poi l'ha fatto su le immagini bruciate in piazza eccetera ma dopo quel pressing credo che lo stesso capo dello Stato abbia ritenuto di dover poi controbilanciare quel primo intervento essendo rimasto molto colpito dalle immagini sulle mangalennate per i ragazzi e di farne un secondo la cosa l'ha fatta arrabbiare molto perché lei era all'estero quando è successo quando Mattarella è intervenuto era Kiev non era questa oltretutto come capo del G7 era Kiev si è sentita un po' pugnalata alla schiena e ha reagito in maniera a te era arrabbiata diciamo l'istituzione tutto questo spiegato però questo che abbiamo visto è stato dopo la rabbia e l'uscita un po' di reazione per quel che è avvenuto ha avuto la saggezza di correggere il tiro e diciamo che magari non era proprio fatto a regola d'arte però insomma il segnale politico era quello che voleva dare invece volevo chiedere a Cerino Pomicino intanto che ne pensa ovviamente se questa tensione però anche della se l'ha stupita il comunicato del Quirinale quello in cui diceva quello contro diciamo i manganelli i manganelli come fallimento ma no è sembrato veramente per chi ha visto le immagini di Pisa è sembrato un'esagerazione perché dal mondo in mondo tutti sappiamo che c'è una capacità di pressione della polizia per rispingere chi vuole sfondare è vero andando avanti sì ma il Quirinale l'intervento del Quirinale è stato inusuale no giusto è giusto no mi giudizia non è inusuale assolutamente non è inusuale e le devo dire neanche qui sempre per la funzione della presidenza del consiglio alcune cose vanno non vanno tolte anche se ci può essere come dire una rabbia un momento bisogna un attimo lasciarli cadere non è possibile non è possibile fare una 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 piccoli dispetti ad orche coperti il dato vero però che mi sembra importante che mentre c'è un feeling molto importante sul piano della politica estera tra il presidente della repubblica e il presidente del consiglio sul piano della politica interna la cosa è totalmente diversa il discorso del premeriato che ha chiamato Maria Teresa Meli guardatevi di una gravità eccezionale perché non solo mette in discussione mette in discussione alcune funzioni del presidente della repubblica mette in discussione la libertà del parlamento e siamo qui davanti ad un parlare salutiero in questo periodo nel quale il parlamento della repubblica non è più nelle condizioni di deliberare liberamente perché se delibera in una certa misura si scioglie il parlamento ma non esiste in nessuna parte del mondo e questo determina naturalmente un'attenzione in uno che tutti i giovani hanno sempre fatto qualche ordine e anche il presidente della repubblica è stato giovane naturalmente però il dato vero è che è un democristiano che sa esattamente qual è la cultura istituzionale e i livelli costituzionali da difendere quindi è chiaro che su questo versante interno è vero poi per le singole questioni dell'ordine quotidiano ha determinato sul piano della politica interna una diversità di sensibilità che sta emergendo è sperabile che invece si trovino saggezza e prudenza c'è Borghi che dice non so di quale partito è quale Borghi ce ne sono due uno è della Lega e l'altro è quello di Italia Viva sarà quello di Italia Viva Italia Viva ex PD abbiamo fatto prudenza e ridurre come in questo momento nel quale abbiamo discusso c'è prudenza e ridurre perché in realtà sappiamo ancora poco e sappiamo però che purtroppo la politica o si dà una mossa e guida la società italiana e quindi le strutture della società italiana o diversamente di questi episodi ne vedremo ancora tantissimi negli anni futuri Allora Annalisa Terranova il polso di questi rapporti tra Meloni e Mattarella è vero intanto che si era arrabbiata su quello ha ragione Borghi Sicuramente non le hanno fatto piacere queste parole anche perché il centrodestra secondo me tra l'altro anche in modo esagerato è sempre schierato con le forze di polizia che comunque ricordo è polizia di Stato quindi non è un contropotere ecco quindi difendere difendere le forze dell'ordine non è una cosa fuori dal ruolo istituzionale della Premier e quindi certamente non le hanno fatto piacere io però intravedo anche un altro problema che è quello della tentazione della sinistra di far passare il capo dello Stato come il leader delle forze che si oppongono a questo governo e che si oppongono a Giorgia Meloni ricordo che la neogovernatrice della Sardegna Todde non appena diciamo è stata dichiarata la sua vittoria in quel voto regionale ha parlato di matite usate contro i manganelli quindi facendo un chiaro riferimento anche a quella che era stata la presa di distanza di Mattarella rispetto a quell'episodio quindi chiaramente poi c'è stato un secondo intervento di Mattarella due giorni fa tu dici Annalisa che ha avuto peso questa dichiarazione sul voto Sardegna è stato anche un voto le matite hanno agito contro i manganelli quindi ha fatto chiaramente esplicito riferimento all'episodio di Pisa e ha fatto esplicito riferimento anche alle clamorose parole del capo dello Stato sicuramente giuste perché sicuramente lì c'è stato un errore di gestione della piazza ma anche abbastanza inusuali ecco diciamo quindi io vedo da parte della sinistra la tentazione di tirare per la giacca Mattarella e di farne quello che rimette a posto le intemperanze di Giorgia Meloni che è giovane non ha lo standing eccetera eccetera le cose che si dicono e che leggiamo e rispetto a questo vedo anche un Mattarella che è abbastanza seccato di questa tendenza e dire guardate io sono arbitro io sono colui che è il garante della Costituzione quindi non posso essere il leader quindi quelle parole su promulgare sono servite anche a questo sono state molto chiare non mi tirate per la giacchetta perché i miei compiti sono ben precisi non siamo in una monarchia quindi non decido io che cosa il governo deve fare o cosa non deve fare io devo soltanto vigilare sul fatto che la Costituzione deve essere rispettata in ogni atto che fa il governo che fa la magistratura perché è anche capo del CSM e ogni atto che fa anche il Parlamento sono il garante chiaro allora vado da abbiamo veramente è rimasto un minuto intanto Vado D'Antonio Caporale non avevo ricordato il libro che ha scritto con Salvatore Merlo e che eccolo qui destra, sinistra e viceversa Antonello l'ultima battuta ti lasciamo su Quirinale Meloni e sull'Abruzzo però abbiamo un minuto scarso la radice del problema è il premierato quando si utilizza la legge costituzionale la Costituzione e la legge per dirimere una questione politica si affronta sempre una torsione della verità e dunque se ricordiamo un ventennio di maggioranze solide numericamente che poi si squagliano risolverlo dando solo potere al premier e dire che dando potere al premier non si toglie potere al presidente della Repubblica al Parlamento è una piccola truffa lessicale ma la verità è più forte perché i fatti sono più forti e dunque il più custodito e contenuto tra i presidenti che abbiamo che è Sergio Mattarella fa vedere che insomma su queste linee non ci sta e le difficoltà avanzano poi si vedrà ma non si vince e l'hanno fatto vedere pure i cosiddetti governatori regionali la forza monocratica in Italia la tradizione repubblicana non lo consente e soprattutto non è una soluzione alla grande questione democratica che è quella perché una maggioranza solida numericamente poi arriva e si squaglia al primo piegarsi della storia della piccola cronaca è di queste ore di questi giorni di questi fatti la crisi interna al centrodestra ma non è una crisi dettata dall'opposizione nessuna opposizione mandare il governo è la maggioranza che si squaglia che si squaglia vedremo naturalmente che si squaglia in termini ipotetici certo allora intanto devo dare la notizia che è indagata Lucia Morselli ex amministratrice delegata di Acciaieria Italia l'ex silva è indagata dalla procura di Taranto per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ci sono anche notizie che riguardano la questione candidato del centrosinistra in Basilicata della quale si è molto occupata Maria Teresa Melli però mi pare che ancora chiarezza non ci sia c'è un buonaccini che dice troveremo una soluzione Linea Andrea Pancani di questo poi ne parleremo domani Linea Andrea Pancani coffee break noi ci vediamo domani buona giornata e grazie